Siete, ero io alla fermata dell'autobus e mi puoi vedere tutt'ora ogni tanto, lo prendo l'autobus e mi ridiverte molto perché il commento della gente è, ma è quella del me di mia famiglia? E l'amico gli fa, ma te pare che lei, ti pare che prende l'autobus? E invece sì, mi diverte molto prenderlo, diverte a volte neanche troppo perché a Roma quando piove ad esempio è la morte, però sì sì, io prendo l'autobus, come no?